Sono venuto qua perché avevo problemi col mangiare, per i denti, li avevo persi quasi tutti. Sono venuto qua a Chisinau perché è stato qua anche un mio amico e poi su internet ho trovato la soluzione adatta per venire qua. Qua mi hanno ospitato benissimo, mi sono trovato subito bene sia con gli alloggi che con gli interventi. In pochi giorni mi sono trovato con i denti provvisori e ho iniziato a mangiare come bisogna sempre fare. Mi sono trovato bene subito, con i definitivi mi sono trovato un ottimo, sia il medico che mi ha seguito e che l'equipa di persone giuste per fare queste cose qua.